Ciao a tutti. Oggi ti porto delle anticipazioni di Terra Amara davvero scioccanti. In Villa Yaman arriva un nuovo ospite, Umit, e Emin guardandola negli occhi, farà una rivelazione che sconvolgerà tutti in villa. Volete sapere di che si tratta? Bene. Resta fino alla fine e non te ne pentirai. Iniziamo. In una giornata come tante altre, Zuleya si trova improvvisamente di fronte a una situazione insolita. È preoccupata per Sevda, che sta manifestando sintomi preoccupanti che mettono in allarme proprio lei. Mentre le due donne si dirigono verso l'ospedale, Sevda cerca di tranquillizzare Zuleya, sostenendo che si tratta solo di un piccolo disagio. Con un sorriso, dice che non c'è bisogno di preoccuparsi troppo, che è solo un po' stanca. Tuttavia, Zuleya, non è così facilmente persuasa. Ha notato il pallore di Sevda. La sua mano che stringe il petto e il braccio che sembra aver perso sensibilità. Zuleya insiste dicendo a Sevda che non può nasconderle nulla. Ha visto come si è sentita male e non possono permettersi di correre rischi con la salute di una persona cara. Con determinazione, le dice che la salute è la cosa più importante e che non permetterà a Sevda di trascurarsi. Tra ansia e speranze, le due donne si dirigono verso l'ospedale, pronte a scoprire cosa sta realmente accadendo. Sevda continua a dire che sta bene e che non sono necessari ulteriori controlli, ma il destino ha in serbo per loro un incontro inaspettato. Prima di continuare Setiva lascia un bel mi piace, e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornata. Grazie. Umit, indossando il camice bianco e con un'aria professionale, si avvicina alle due donne, mostrando grande preoccupazione. Chiede con gentilezza ma con fermezza cosa sta succedendo lì. Zuleya spiega rapidamente la situazione, sottolineando l'importanza di un controllo medico. Umit, con la sua esperienza e competenza, comprende immediatamente la gravità dei sintomi descritti. L'intorpidimento del braccio e la tachicardia non sono sintomi da sottovalutare. Sevda cerca di mantenere la calma, ma Umit non si lascia ingannare. Dice di essere specializzato in cardiologia e assicura loro che è essenziale fare degli esami per escludere qualsiasi problema serio. Zuleya è grata per l'intervento di Umit e insiste affinché Sevda venga visitata il prima possibile. Umit annuisce con determinazione, promettendo di prendersi cura di Sevda e di fare tutto il necessario per garantire la sua salute. Nel suo studio, dimostra la sua professionalità e dedizione mentre si occupa di Sevda con gesti esperti e sicuri. Con una mano esperta, prende il polso di Sevda, cercando di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni attraverso il semplice tocco. Nel frattempo, pone a Sevda domande dettagliate sui sintomi. Zuleya osserva con ansia, sperando che tutto si risolva per il meglio. Umit le lancia uno sguardo rassicurante e decide di procedere con esami più approfonditi. Con determinazione, dopo una lunga attesa, Umit torna con i risultati degli esami. Con un sospiro di sollievo, informa le due donne che si tratta solo di una lieve aritmia. Tuttavia, sottolinea l'importanza di monitorare attentamente la situazione. Sevda, ti consiglio di controllare regolarmente la tua pressione sanguigna e di fare attenzione alla tua dieta, suggerisce con tono premuroso. Sevda sorride dolcemente e ringrazia Umit per la sua attenzione. Dice che Zuleya è sempre stata la sua guida quando si tratta di alimentazione sana. Zuleya si assicura sempre che io mangi cibi sani e bilanciati, aggiunge con gratitudine. Zuleya sorride e annuisce, aggiungendo, la salute viene prima di tutto, e Sevda è come una madre per me, quindi faccio sempre del mio meglio per prendermi cura di lei. Umit, la nuova arrivata a Kukurova, è al centro dell'attenzione, e Zuleya è determinata a farla sentire il calore e l'ospitalità della famiglia Yaman. Mentre il sole tramonta, Umit riflette sulla gentilezza inaspettata di Zuleya e Sevda. La loro offerta di cena va oltre il semplice dovere di ospitalità. È un segno di amicizia e un desiderio genuino di creare legami. Nella spaziosa cucina della villa, l'aria è pervasa dal profumo di piatti deliziosi. Saniyai, con la sua abilità culinaria, sta preparando una cena speciale per l'ospite d'onore. Zuleya, entrando nella cucina, osserva con approvazione il lavoro svolto e chiede se tutto è pronto per la serata. Saniyai, con un sorriso rassicurante, annuisce e assicura che tutto sarà perfetto. L'arrivo di Cetin e Gulten aggiunge un tocco di allegria all'atmosfera. Mentre Zuleya organizza gli ultimi dettagli per la cena, Gulten si offre volontaria per aiutare, mostrando la sua dedizione alla famiglia. Cetin, sempre gentiluomo, apprezza la decisione di Gulten e decide di rimanere anche lui per la cena. Zuleya, con un sorriso, si rivolge a Saniyai per alcuni consigli finali sulla cena, desiderando che tutto sia perfetto per Umit. Nel cuore della grande villa Yaman, Umit, con occhi pieni di meraviglia, osserva tutto ciò che la circonda. Non aveva mai immaginato che Demir potesse vivere in un luogo così maestoso. Mentre si perde nei dettagli architettonici, Zuleya la accoglie con un calore che fa sentire Umit come a casa. Amine, con il suo sguardo, osserva la nuova arrivata. Nonostante i suoi problemi di memoria, riconosce in Umit una donna di sostanza e bellezza. La sua mente sempre in cerca di opportunità comincia a creare delle trame. Amine dice, sei una ragazza molto istruita e bella, quindi ti troverò un buon marito, anzi ti sposerai con mio nipote Demir, perché siete perfetti. Sevda, sempre pronta a correggere le inesattezze di Amine, interviene rapidamente, ricordando a tutti che Demir è già felicemente sposato con Zuleya, e hanno due splendidi figli. Con un sorriso indulgente, spiega la situazione di Amine, chiedendo scusa per eventuali imbarazzi. Umit accoglie con comprensione le parole di Zuleya e apprezza la sua sincerità. Mentre la conversazione prosegue, Umit esprime la sua curiosità su Demir. Zuleya, con un tono leggermente malinconico, dice che Demir dovrebbe essere di ritorno a breve, ma non vuole che Umit aspetti a stomaco vuoto e suggerisce di iniziare la cena. Tuttavia, Umit preferisce pazientemente aspettare, dimostrando rispetto per Demir. Il legame tra Umit e Sevda si rafforza quando Umit si informa sul benessere di Sevda. La gratitudine di Sevda è palpabile, e il loro scambio dimostra che, nonostante le circostanze, stanno nascendo nuove amicizie. In seguito, Demir fa il suo ingresso con un pacchetto accuratamente avvolto tra le mani. Zuleya, con occhi pieni di sorpresa, lo accoglie con un sorriso quando scopre che il regalo contiene la sua amata pasta di mandorle da Istanbul. Demir, con un sorriso malizioso, fa notare quanto Zuleya ami quella prelibatezza, e la dolcezza del gesto riscalda immediatamente l'atmosfera. Ma quando Demir posa lo sguardo sulla tavola imbandita, nota una presenza inaspettata, e la sorpresa si dipinge sul suo volto quando riconosce Umit. Un attimo di tensione pervade la stanza mentre Demir cerca di nascondere il suo imbarazzo. Con eleganza, Umit si alza e si presenta, spiegando che non voleva imporsi. Demir, recuperando la sua compostezza, rassicura Umit dicendo che è sempre un piacere avere ospiti. Nel tentativo di stemperare la situazione, Demir racconta a tutti dell'incontro mattutino con Umit all'ospedale e di come sia stata di grande aiuto per Sevda. Demir si rivolge preoccupato a Sevda, che lo tranquillizza sul suo stato di salute. Zuleyha sottolinea la gentilezza e la professionalità di Umit, affermando che meritava un invito da tempo. Mentre si accomodano a tavola, Demir lancia occhiate furtive a Umit, cercando di decifrare la nuova dinamica. Umit, con un tono di voce basso, rivela quanto le manchi cenare in compagnia di una famiglia. La sua confessione tocca il cuore di Zuleyha, che risponde sperando che da quel momento possano diventare amiche. Sevda, con un tono curioso, chiede a Umit dei suoi genitori. Umit rivela la perdita di sua madre. Sevda, commossa, esprime le sue condoglianze, ma Umit la rassicura dicendo che il tempo ha lenito il dolore. Mentre la conversazione scorre leggera, Sevda nota qualcosa di particolare, i gemelli scintillanti al polso di Demir. La sua domanda innocente mette Demir in imbarazzo, poiché quei gemelli erano un dono personale di Umit. Zuleyha, ignara della verità e cercando di proteggere il marito, interviene dicendo che erano un regalo da un partner commerciale. L'aria si carica di tensione, e Umit, con uno sguardo penetrante, si rende conto che Demir ha nascosto la verità a Zuleyha e Sevda. Con la sua intuizione, percepisce il sottile gioco di sguardi e menzogne. Mentre la serata volge al termine Sevda è sempre più confusa. Sevda scoprirà la verità, se volete il continuo della storia scrivete, certo, nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!